Ascolti ancora questa Epigmanio Crus Quest'uomo poteva salvare il rock messico Perché dovremmo andare a visitarlo proprio noi? Perché non ci andrà nessun altro idiota? Ascoltami bene ragazzini La facoltà di studi latino-americani Propone piuttosto di fare una manifestazione silenziosa E trovare l'accordo È lei, è quella della radio Che stiamo andando a cercare Che olvidava il sole Non ho mai sentito niente del genere Ascoltami Ascoltami Come un cielo azul Ascoltami 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 Ascoltami